Hello Alla, balla come non ci fosse un domani E non importa se non va nemmeno a tempo con le mani E' ricomparsa, apparsa, cambiato di nuovo i tuoi piani Ma non si fermerà, per l'equa ci sono tutti i tuoi piani Pare geniale, mi sembra sempre tutto uguale E' un tipo creativo, ascolta solo musica dei diro Per questo pensa all'est, è già da un po' che vive all'est Ora un progetto nuovo, domani prenderanno il volo Ma quale Olanda dai? Partiamo, andiamo in Uruguay Per la promessa di opportunità per noi Laggiù è legale, pari, umane, non sei gay Lo sai, lontano Uruguay Parparla visto di Bruxelles, pure d'Anci Per comparsa la voce ma non sente Chi è l'esempio per la gente di Uruguay, presidente Tu non sai, chi è l'esempio per la gente di Uruguay Conquisto libertà, civili, membri di noi Forse per questo non se ne è parlato mai Nell'Europa negli altri simili dove affondano i diritti umani Reale, interessa solo l'essenziale Per comparsa che in corso una rivoluzione culturale Se il vecchio continente è come un padre assente Evidentemente, questa cianella va Che non lo va e la c'è E lo fa male il presidente Per comparsa che in corso una rivoluzione culturale Uruguay Uruguay Lo sai, lontano Uruguay Parparla visto di Bruxelles, pure d'Anci Per comparsa la voce ma non sente Chi è l'esempio per la gente di Uruguay, presidente Tu non sai, chi è l'esempio per la gente di Uruguay Conquisto libertà civili, membri di noi Forse per questo non se ne è parlato mai Nell'Europa negli altri simili dove affondano i diritti umani Lo sai, lontano Uruguay Parparla visto di Bruxelles, pure d'Anci Per comparsa la voce ma non sente Chi è l'esempio per la gente di Uruguay, presidente Tu non sai, chi è l'esempio per la gente di Uruguay Conquisto libertà civili, membri di noi Forse per questo non se ne è parlato mai Nell'Europa negli altri simili dove affondano i diritti umani Nell'Europa negli altri simili dove affondano i diritti umani Nell'Europa negli altri simili dove affondano i diritti umani Per questo non si ne è parlato mai Per questo non si ne è parlato mai Direi l'esempio per la gente di Uruguay Per questo non si ne è parlato mai Per questo non si ne è parlato mai Per questo non si ne è parlato mai Grazie a tutti